Il piano sicurezza è pronto a scattare per Firenze. Già da martedì, ossia il giorno che precede, il via all'incontro dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo. Si partirà subito con l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi, per chiudere con il capo di Stato Mattarella e Papa Francesco. Il premier, salvo crisi internazionali, giungerà in città nel pomeriggio. Dopo il summit visiterà un'azienda e poi dovrebbe incontrare gli amministratori, gli imprenditori della provincia, al teatro del Maggio Musicale. Ma è solo l'inizio di una maratona lunga cinque giorni, che richiederà l'impiego di mille agenti in più, coordinati dal prefetto Valerio Valenti. Oltre alla gendarmeria vaticana saranno tutte le articolazioni di carabinieri e polizia ad agire sul campo, compresi artificieri, unità cinofile, droni e tiratori scelti sui tetti, in particolare lungo il tragitto che separa Palazzo Vecchio da Santa Croce, lungo il quale ovviamente domenica si muoverà il pontefice. Sempre domenica, probabile l'istituzione di una zona rossa, che escluderà coloro che non sono autorizzati a partecipare alla celebrazione liturgica. Gli organizzatori dunque invitano i fedeli a non affollarsi lungo il percorso.